C'eravamo lasciati che abbiamo aperto una nuova azienda, ancora non sapete al 100% che c'è in questa azienda, qualcuno ve l'ho già detto, che potrebbe essere un'azienda che può aiutare bartender ma anche appassionati a lanciare una nuova attività, un side business, ma che non è un'azienda di formazione, un'azienda fisica, un'azienda che esiste, un'azienda che non fa solo consulenze e quindi ho deciso di portarvi finalmente a farvela vedere. Così vi svelo in diretta di che cosa si tratta e poi vi dirò anche qualcosa in più. Stiamo fisicamente entrando, adesso voi vedete solo qui un attimo il retro e il fuori, eccoci siamo dentro e tra un po' vi dirò di che cosa si tratta anche se ancora non si è visto niente. E niente, con un po' di emozione vi dico che abbiamo aperto una micro distilleria artigianale a Bologna. Siamo la prima, penso da quello che ho potuto capire anche tramite le dogane, la prima micro distilleria artigianale nel comune di Bologna. Ovviamente a Bologna di distillerie ce ne sono altre, c'è per esempio Montenegro, c'è Villazzarri, ma sono fuori dal comune. Noi viviamo proprio nel comune di Bologna, siamo neanche un chilometro dal laboratorio Dream Factory. Ma chi fa parte di questo progetto? Di questo progetto fa parte Cocktail Engineering, quindi me, Giovanni, fa parte Dream Factory con la figura di Federico e c'è anche Alessandro, mio fratello. Mio fratello è un agronomo e lavora nella ricerca e sviluppo di una grande multinazionale e tra le sue specializzazioni c'è quella di studiare le componenti aromatiche, quindi questo è anche il motivo per cui Alessandro fa parte di questo progetto della nostra micro distilleria. Siamo a Bologna, produciamo conto terzi ma anche conto proprio. Conto terzi possiamo produrre Gin, Botanical Spirit, Amari, Vermouth, Liquori e tutto ciò che è possibile produrre con quella che sarà la nostra licenza, poi chissà che in futuro non ci andremo ad espandere e se volete saperne di più restate sintonizzati, fatemi sapere nei commenti o un messaggio, una mail, quello che ne pensate e tutto qua.